Eccoci qua, GasTube Drums contro Bernardo Grillo. Questa è la prima collaborazione che faccio con un batterista sul canale, quindi adesso vi spiego tutto come funziona e poi partiamo con le domande. Praticamente qualche giorno fa su Instagram sia io sia Bernardo vi abbiamo chiesto di farci delle domande. Domande che fossero un pochettino più ricercate e quindi ci permettessero di fare questo confronto che stiamo facendo proprio in questo video e non solo, perché in questo momento è uscito il mio video ma è uscito anche un video sul canale di Bernardo in cui praticamente, allora in questo video rispondiamo alle domande che avete fatto su Instagram a me mentre nell'altro video le domande che avete fatto su Instagram a Bernardo. Ovviamente però le domande erano tantissime e non abbiamo potuto rispondere a tutte, quindi abbiamo preso le migliori 6, 7, quante sono non me lo ricordo più e però questa sarà un'intervista doppia in cui risponderò io e poi risponderò alla stessa domanda Bernardo in modo tale da vedere quali sono le differenze, se la pensiamo nello stesso modo, se invece abbiamo pareri completamente contrastanti così da capire un po'. Ovviamente la cosa da fare è poi andare anche a vedere il video di Bernardo, ve lo lascio qui sotto in descrizione, in modo tale da poter vedere anche altre domande perché ovviamente i video sono diversi, le domande sono diverse, quindi andate a fare anche un giro sul suo canale. Mentre fate questo, se non siete ancora iscritti, mi raccomando iscrivetevi a questo canale, poi finite di vedere il video, andate sul video di Bernardo, vi iscrivete al suo canale se ancora non siete iscritti e guardate tutto il video anche lì. Ma direi di cominciare subito. Ciao Luca! Allora vado con le risposte, eh! Domanda numero uno, come impari i brani? Questa secondo me è una domanda molto molto interessante perché tante volte uno quando ha un brano da studiare lo studia suonandoci tante volte sopra e finisce lì. Invece, ad esempio, facciamo finta, vi chiami una band e vi dia un brano da studiare, un repertorio da studiare. La prima cosa da fare, secondo me, o comunque la prima cosa che faccio io, è quella di richiedere il brano suonato dalla band con cui dovremo andare a suonare, una versione originale del brano nel caso in cui questo brano fosse una cover e se ci sono la traccia di sequenze. Potrebbe esserci una traccia di percussioni o una traccia di tastiera che magari non è suonata proprio dalla band ma è in sequenza. Quindi queste tre cose principalmente. Nel momento in cui ho queste tre cose, numero uno vado a trascrivermi il pezzo suonato dalla band. Vado a trascrivermelo bene, mi segno bene tutti i groove precisi, i feel non me li segno di solito, mi segno solo i feel che magari sono fondamentali per la canzone e dopo averla trascritta bene vado a confrontarla con la versione originale, ovviamente solo nel caso sia una cover. In questo modo posso andare a vedere quali sono e se ci sono delle differenze e ad esempio se c'è un groove che nell'originale è un pochettino diverso ho la possibilità, quando vado alle prove con questa band, di dire ok, il groove che avete fatto voi è questo, però secondo me gira meglio quello dell'originale che sarebbe questo. Quale faccio? Questa cosa dalla band sicuramente è apprezzata. Poi ovviamente oltre a studiare bene la canzone, studiate bene i punti critici della canzone, cioè le cose un po' più difficili. Fate di tanto anche senza la canzone, solo batteria, per capire se funziona o meno e poi ovviamente nel momento in cui siete a posto suonatevi le canzoni o la canzone che avete da studiare per tantissime volte in modo tale da prendere confidenza. Io me li scrivo, per esempio siccome ultimamente sto portando molti esempi di batteristi su YouTube, devo imparare molti brani da suonare per fare appunto gli esempi di quali sono i loro punti di forza, quindi mi studio il batterista ascoltando gli album, estrapolo alcuni brani e me li devo imparare. Non è che li imparo tutti, imparo delle sezioni. Se non ho mai ascoltato quel batterista o quell'artista, mi lo scrivo. Scrivo l'appunto appena lo ascolto, non ci vuole molto, poi grazie a Dio comunque con la lettura me la cavo abbastanza, quindi scrivo le mie parti e mi imparo i brani così. Penso sia molto 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 più efficiente che mettermi lì e fare l'ascolto e poi fare come era? Torno indietro cioè così ci metto un'ora per imparare dieci secondi, se me lo scrivo ci metto dieci secondi a imparare un'ora. È difficile vivere in Italia facendo il musicista? Come e dove si potrebbe migliorare? Allora non posso negare che sia difficile vivere di musica in Italia, però secondo me la cosa importante al giorno d'oggi, come ho detto anche già in una risposta al video di Bernardo, mi raccomando andatevelo a vedere, ve lo lascio qui sopra in una scheda, è quella che adesso come adesso un musicista, un batterista non può più dire ok vivo di musica e basta, perché questa cosa non è più tanto fattibile, quindi bisogna essere un pochettino più multitasking, cioè bisogna cercare di fare più cose, ad esempio suonare va benissimo e ovviamente se è possibile deve essere la cosa principale, provate a buttarvi anche nell'insegnamento e vedete se vi piace questo mondo, provate a buttarvi nei video, se vi piace fare video tutorial, se vi piace fare cover, così tutto insieme probabilmente vi permetterà più facilmente di vivere di musica. Le due cose importanti secondo me sono avere qualità in qualsiasi cosa facciamo, cioè sia se noi facciamo le cover, sia se noi facciamo i tutorial, se noi insegniamo, se noi suoniamo live, sempre più qualità possibile e la seconda cosa è sbattersi tanto, se voi create dei contenuti, se voi suonate, cercate di sbattervi in modo tale da poter lavorare sempre di più. Non aspettate che il lavoro venga a voi, siete voi che dovete cercare il lavoro. È difficile come è difficile fare tutto, nel senso non è che fare il geometra è più facile in Italia o fare l'architetto, cioè io ho amici appunto geometri architetti che magari se ti inserisci in un contesto dove ci sono già i soliti architetti da una ventina di anni che si passano il lavoro ai figli, alle famiglie, cioè tu sei un newbie architetto, dove vuoi andare, cioè sei in un mare, sei in un mare e la stessa cosa è il musicista, è identico. Io non direi che c'è una cosa più difficile di un'altra, questo è il destino di chi fa il libero professionismo fondamentalmente, non è il musicista o meno. Un Ennio Morricone è a un livello talmente alto che lui non ha questo tipo di problema, cioè lui è riconosciuto. Sono i pesci piccoli quelli che fanno fatica fondamentalmente, come in tutti i lavori. E non direi che cosa si potrebbe migliorare, cioè io non mi aspetterei un miglioramento da, che ne so, lo stato, lo stato cosa? Cioè nel senso, non è un miglioramento dobbiamo aspettarci dall'esterno per migliorare la nostra situazione di liberi professionisti o di musicisti, ma semmai è un cambiamento dall'interno. Dove posso migliorare? Come posso offrire di più alle persone? Come posso offrire più valore? Come posso dimostrare che ho valore? Allora, questo mette in moto tutto un altro ragionamento e poi vedi che ci sono persone come Luca che si impegnano un casino sui social e tutto, perché? Perché costruiscono la loro professione. E invito a farlo a chiunque, perché poi alla fine c'è un sacco di spazio, se vogliamo, c'è un sacco di spazio per persone abili, c'è un sacco di spazio per persone che sanno ascoltare, per persone che si mettono in discussione. E non è che ti devi aspettare un cambiamento della serie adesso diamo uno stipendio minimo a tutti, sì, vabbè, forse in qualche stato veramente avanzato funziona anche così, ma quasi quasi preferisco che sia più difficile in modo che siamo meno, scusate, e in modo che sono davvero costretto a spingere, spingere, spingere forte e automigliorarmi, perché poi la cosa più bella è automigliorarsi e fondamentalmente trarre soddisfazione da ciò che si fa. Se ci viene preparata la pappa pronta, dov'è la soddisfazione? Ma non esiste in nessuno stato. In America sono ancora più settoriali su questo, quindi riteniamoci pure fortunati che siamo in Italia e che c'è la mamma. Vi capita di sedervi sulla batteria e sentirvi delle pippe immense e invece ci sono dei giorni che vi sentite più forti del mondo? Assolutamente sì, anche di questa cosa. Ho parlato già un pochettino anche nel video di Bernardo, anche se in realtà la domanda era un pochettino diversa. Comunque questa cosa sì, ma credo che capiti per tutti. Ogni tanto sentirsi super e ogni tanto sentirsi... Ad esempio a me capita di sentirmi un super fenomeno nel momento in cui magari non suono la batteria per un po' di giorni, tipo 5, 6, 7 giorni e poi dopo essere stato fermo per questo tempo mi siede la batteria, suono e dico mamma mia, sono migliorato tantissimo. Poi dopo 5 minuti torno alla realtà e vabbè. Però comunque capita e credo capiti a tutti. Mi ricordo che Furian già mi parlava di questa cosa che diceva ogni tanto capita che io mi senta un fenomeno pazzesco o il contrario. Quindi capita a tutti i livelli, non vi preoccupate. Soprattutto non prendetevi male nel momento in cui vi sentite delle pippe clamorose. In quel caso calma, fate le cose base, pian pianino, tirate sempre un pochettino più l'asticella della difficoltà e in realtà vi accorgerete che non siete peggiorati ma suonate sempre come prima. Non vi preoccupate di questo. Nel momento in cui questa cosa vi capita live o in studio di registrazione, non fate cose troppo troppo difficili. Non cercate di strafare perché se siete in una giornata no, ecco. Sì, può anche capitare. Io invece ribalterei la domanda e ti direi perché invece non ti inizi a volere un pochino bene anche tu e ti riscaldi per bene prima di iniziare a suonare? Mi spiego meglio perché non c'è un vero cambio di livello tra un giorno e un altro. Anzi, in realtà tra un giorno e un altro bisognerebbe sempre puntare a essere un po' meglio del giorno prima. Quindi, teoricamente dovrebbe essere così. A meno che tu non ti sia riposato per niente, a meno che tu insomma non hai fatto le cose normali della vita tipo riposarsi, mangiare e tutto, allora sei effettivamente più stanco e quindi sì, probabilmente sei più una pippa. Però, in condizioni normali dovresti essere un po' meglio del giorno prima se il giorno prima hai studiato bene. Quindi, probabilmente se ti rimetti nello strumento e non ti senti di nuovo in forma come il giorno prima è perché semplicemente stai chiedendo troppo al tuo corpo in quel momento che si era riposato che si era dimenticato di tutte quelle cose e non è nella stessa condizione di buona connessione mente-corpo in cui era il giorno prima. Quindi, vogliti bene e riscaldati per bene prima di suonare magari anche contando cercando di ristabilire quella stessa connessione quella buona connessione mente-corpo che avevi quando ti sentivi veramente in forma. poi è anche possibile che tu stia approcciando a cose un po' più difficili del giorno prima perché hai detto ok, sono migliorata adesso faccio cose un po' più difficili e quindi effettivamente non le hai mai fatte quindi di nuovo ti ritrovi in una situazione in cui sei una pippa. Ma questa è una condizione mentale perché il tuo livello piano piano se tu continui a studiare cresce in maniera costante quindi non ti preoccupare di questo tipo di sensazioni e vai se ti richiede più tempo perché quel giorno sei un po' più freddo riscaldati maggiormente quando poi sei più caldo vedrai che il tuo livello lo sentirai più o meno sempre allo stesso modo se non un po' meglio. Prima che diventasse il vostro lavoro come trovavate la forza di studiare la batteria? Allora questa è una domanda interessante perché adesso vi voglio parlare un attimino di questa cosa. La batteria in generale secondo me lo studio della batteria e la passione per questo strumento non devono nascere con un obiettivo lavorare cioè è vero che magari può voler diventare il nostro lavoro però alla base della batteria deve esserci la passione quindi il fatto di studiare non deve essere mai una forzatura non dobbiamo mai dover trovare la forza di studiare ovviamente ci possono essere dei giorni in cui abbiamo più voglia dei giorni in cui ne abbiamo meno voglia però con questo cosa voglio dire? Voglio dire che il fatto di studiare batteria in primis deve essere una cosa che facciamo per noi perché vogliamo migliorare sempre di più perché vogliamo fare un certo esercizio a una certa velocità o perché ci piacerebbe andare a suonare con una certa persona cerchiamo di studiare bene nel modo giusto primo per noi stessi e poi cercheremo pian pianino di andare avanti il più possibile però adesso che comunque io vivo abbastanza con la musica diciamo non è che ho smesso di studiare perché sono a posto mi fa piacere studiare e quindi mi fa piacere studiare mi fa piacere sapere cose nuove quindi continuo sempre a studiare questo assolutamente secondo me un batterista un musicista non smetterà mai di studiare perché gli piace perché ha la passione per lo strumento beh io intanto mi divertivo cioè nel senso andavo a lezione dal maestro di batteria che fortunatamente grazie al cielo era un ottimo insegnante mi sembra il periodo in cui ho fatto più salti di qualità proprio in termini di grandi passi con la batteria mi sembra che era tra i 15 e i 17 anni quando avevo una marea di tempo avevo due amici cioè te immagini se io sono di grosseto che vita c'è a grosseto niente nulla se non andare il sabato in centro per il corso a fare le vasche quindi fino alle 6 6 e mezzo magari io dalle 3 ero lì che suonavo la batteria avevo lo sgabuzzino e mi divertivo cioè ho suonato doppio pedale a manetta oppure anche jazz altre cose swing cioè piano piano i primi groove funk prima che diventasse un lavoro poi nel momento in cui vuoi che diventi un lavoro allora lì devi porti degli obiettivi e studiare con più disciplina ma comunque passione batte disciplina se c'è abbastanza passione dietro non hai bisogno della disciplina perché ti alzi pensi a quello e lo fai fondamentalmente se hai il tempo di farlo se no cerchi di ritagliarti più tempo possibile per studiare se proprio proprio sei in un momento che ti serve disciplina allora ti devi mettere degli obiettivi ben precisi e tipo voglio finire il libro di tot allora ti però il libro di tot entro 6 mesi allora ti metti lì e in 6 mesi devi finire il libro questa è autodisciplina e quindi sì ti aiuta anche a migliorare però ecco secondo me la passione la prima cosa è il divertirsi come è nata l'idea di caricare video su youtube e quali sono a tuo parere i vantaggi e svantaggi che ne trai allora questa è una bella domanda perché sicuramente io e Bernardo siamo cominciati su youtube in due modi diversi io ho cominciato a mettere video su youtube perché praticamente non so se sapete che gas tube è un canale che è nato non per batteria nel senso se cercate su youtube gas tube e basta non gas tube mi piace un logo rosso simile al mio ma senza bacchette con un plettro perché gas tube questo canale qua è di chitarra e di gestito da Alessandro Barbetti dopo un annetto che aveva fatto partire il canale Ale mi ha chiamato e mi fa che ne dici di provare a fare un canale anche di batteria io non ho mai fatto video non ho mai fatto vlog eccetera eccetera gli ho chiesto in primis se era matto perché pensavo che fosse una pazzia poi in realtà pian pianino mi sono messo per qualche mese lì a fare un po' di prove a provare a fare video a provare a editare eccetera 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 e quindi pian pianino ho imparato a fare un po' di cose sto ancora imparando e quindi così è nato il mio canale youtube e lui mi ha dato un po' di spiegazioni mi ha spiegato come fare di lì ho incominciato a prendere un po' di idee potrei fare un video su questo potrei fare un video in questo modo qua in questo modo qua ne ho fatti tre o quattro che ho dovuto scartare perché erano penosi e poi è uscito il primo mio video sul canale che era quello sulle sordine big fat snare drum vantaggi e svantaggi quindi secondo me principalmente ci sono più vantaggi perché se si lavora in un certo modo se si cerca sempre di fare contenuti di qualità eccetera eccetera e se ci si sbatte questa raga è sempre la cosa principale sbattersi la visibilità cresce quindi questa è una cosa positiva e si ha la possibilità di fare più cose gli svantaggi non ce ne sono svantaggi secondo me in realtà lo svantaggio volendo potrebbe essere che questa cosa dei video questa cosa della gestione dei social occupa tantissimissimissimo tempo io ho deciso di insegnare meno per dedicarmi a questa cosa però per me non è stato uno svantaggio è stata una decisione mia perché mi piace fare questa cosa quindi secondo me svantaggi non ce ne sono più di tanti allora l'idea è nata dalla fame no scherzo l'idea è nata dal fatto che io avevo da sempre guardato YouTube con molta ammirazione e volevo farne parte di questo mondo perché percepivo che era una comunità più che un posto dove caricare i video più che un sito internet e volevo farne parte e volevo un po' restituire tante cose che avevo imparato soprattutto guardando proprio i grandi batteristi e volevo fare insomma la mia entrata su YouTube poi mi piaceva proprio il fatto di maneggiare le macchine fotografiche fare questo genere di cose quindi arrivato a un certo punto in cui già stavo insegnando la batteria e lo facevo insomma a livello molto molto basso diciamo cioè avevo pochi studenti e tutto guardandomi intorno sempre nella mia zona ripeto io sono di grosseto non c'è nulla però ci sono comunque ottimi batteristi nella zona vedevo che erano magari alcuni erano più avanti di me come numero di studenti altri erano più avanti di me come livello batteristico dovevo trovare la mia strada all'interno della mia zona quindi non ho mai pensato al livello italiano e questa è stata la prima cosa ho detto ok ho in mente questa cosa se mi metto a fare video sicuramente sono l'unico che lo fa a grosseto o in maremma quindi sono andato subito in quella direzione e i risultati sono arrivati dopo un bel po' cioè almeno quattro mesi che tre mesi che pubblicavo video e nessuno mi si filava poi qualcosa è successo e allora dopo siamo sono salito numero di iscritti ho capito quali erano i punti di forza su cui dovevo lavorare e quindi da lì diciamo è partita ma non ho mai pensato di fare una cosa seria cioè è partita così per cercarmi un mio spazio per anche fare cose più difficili che non avevo modo di fare a lezione con i bimbetti e quindi fare vedere tutti questi concettini che avevo in testa e volevo volevo dire insomma quindi è partita così comunque anche uno sfogo se vogliamo quando finirà la moda ah ecco qui ci sono due domande in una perché questa persona qua mi ha fatto due domande e decido di raggrupparle tutte in una quando finirà la moda dei linear ovunque e poi il rimshot è morto allora la moda dei linear che in realtà non è che sia una moda c'è questa moda adesso dei gospel chops che sta un po' passando e devo dire ma c'è stato tantissimo quest'ondata in cui tutti volevano andare velocissimi a fare dei linear pazzeschi e questa qua secondo me che bisognerebbe dire quando finirà questa cosa della velocità pazzesca perché in realtà i linear di per sé secondo me sono delle figate pazzesche se voi pensate a Buddy Rich ad esempio o a Gary Cheffi negli anni 90 comunque era tutta gente che già faceva i linear e non dicevamo basta con questi linear perché erano delle figate pazzesche quindi secondo me la cosa giusta non è tanto quando finiranno i linear perché con i linear si possono fare veramente delle cose molto molto interessanti ma quando finirà al massimo quest'ondata del voglio suonare tutto veloce tutto il più veloce possibile avere più tecnica possibile questa cosa va un pochettino tante volte ad ammazzare la musica quindi la musica ne risente un po' di queste cose di questi chops di queste cose troppo 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 veloci per quanto riguarda il rimshot invece secondo me assolutamente no non è morto ma il fatto è che le mode cambiano quindi anni fa c'era la moda del rullante super tirato di Vinnicola Iuta adesso c'è la moda del rullantone un po' più panettone un po' più basso questo secondo me che ci piacciono no sono un po' le mode a me sinceramente il rullante panettone comunque come sapete piace molto e detto questo quindi secondo me dobbiamo sapere usare sia il rimshot sia il non rimshot in base a cosa dobbiamo suonare in base a che suono dobbiamo avere in base a che tipo di rullante usiamo in base a che tipo di accordatura usiamo se usiamo un'accordatura bassa o medio bassa come uso io molto spesso come uso io live è il meglio se non utilizziamo il rimshot e magari utilizziamo anche la bacchetta al contrario così da avere un suono un bel po' più pieno e con un po' più di basse invece il rimshot tante volte ci dà troppo attacco quindi per certe accordature non va bene se facciamo funky va benissimo usare il rimshot perché ci dà proprio quella pacca bella potente e poi il cerchio ci dà quel suono un po' più metallico che comunque è sempre figo quindi e cambio luce che cavolo è successo? quindi imparate a suonare sia utilizzando rimshot sia non utilizzandolo in modo tale anche in realtà da avere una gamma di suoni maggiore e poter scegliere in questo pezzo uso rimshot perché mi serve quel tipo di suono e in questo pezzo non lo uso perché mi serve un altro tipo di suono quale moda dei linear? non c'è nessuna moda dei linear i linear ci sono sempre stati e sempre ci saranno basta guardare mi viene in mente così a caso già guarda il lancio di smells like teen spirit fatto da Dave Grohl con i Nirvana quello è un linear quindi anno 92 quell'album e 91 guarda ancora più indietro guarda il dvd di Dave Grohl dove faceva vedere tutte le permutazioni di vari linear che faceva dove faceva vedere insomma i linear quelle triplette e lui le ha sempre inserite in maniera copiosa guardati per esempio anche la solo dove c'è Steve Gadd Vinny con la juta e Dave Grohl lì c'è una marea di linear quindi dov'è la moda dei linear non c'è forse ti stai riferendo alla moda dei batteristi gospel in generale che fanno gospel chops e allora lì ci sono molti linear però ecco lì la moda è palese e c'è un grosso trend però bisogna anche vedere a questo punto quali sono le charts mondiali quali sono i top 10 artisti ascoltati e effettivamente ti accorgerai che ci sono solo o quasi esclusivamente batteristi hip hop ai primi posti della billboard o queste classifiche qua quindi che cosa ti aspetti se l'hip hop e il soul vanno alla grande in questo momento quelli sono i batteristi che la fanno da padrone in più sono dei gran fenomeni e quindi anche uno come Eros Ramazzotti si permette di chiamare un more alla batteria che praticamente non è more che suona con Eros è Eros e suona con more quello sì che è un trend in più c'è da dire che il rock adesso sta passando il momento peggiore forse della sua storia perché appunto sia i fans sia le band non hanno le idee chiare quindi i fans si aspettano non si sa cosa dalle band emergenti e quindi ascoltano solo i mostri del passato e i contenuti che vanno su youtube te lo fanno ben capire quindi non c'è molta propensione all'ascolto di generi nuovi rock d'altronde le band fanno fatica a uscire dal loro bozzo e fanno fatica anche a proporre cose che siano originali quindi dove impazzano i linear è proprio l'hip hop o comunque questo genere di musica vedi te che ecco è il trend della tua domanda comunque non c'è nessuna non c'è nessuna moda i linear sempre ci sono e sempre ci saranno e meno male che ci sono perché tra le cose più fighe ci sono proprio i linear ma non intendo i gospel chops stiamo parlando di linear poi il rimshot è morto il rimshot è morto boh fai te non mi sembra è morto sto rimshot perché il rimshot è morto indipendenza e poliritmie come le studiate allora io in realtà molto spesso le studio insieme non proprio le poliritmie ma più che altro le polimetrie cioè il fatto di fare due metriche insieme e per metriche intendo cose un po' particolari ad esempio ottavi e terzine insieme sedicesimi e terzine quintine e ottavi cose un pochettino strane questo aiuta tantissimo per il microtiming e aiuta tantissimo per l'indipendenza se ad esempio faccio charleston in ottavi e poi faccio le terzine sul rullante come ghost tenendo ovviamente sempre il backbeat anche sul 2 su 4 verranno fuori cose molto particolari ma ci aiutano per creare sonorità nuove e soprattutto sonorità poco convenzionali che si sentono poco oppure altri esempi possono essere mettere sedicesimi col charleston e le ghost sempre le terzine oppure fare charleston shuffle e le ghost fatte con i sedicesimi giusti quindi cose completamente strane che all'inizio suonano malissimo sembrano stranissime se andiamo però a mettere tutti i colpi nel posto giusto dove devono essere si possono creare cose particolari molto molto interessanti provateci allora indipendenza e poliritmie sono due argomenti differenti quindi che cosa intendiamo se tu intendi l'indipendenza e penso che tu intendi un'indipendenza classica quella per esempio fra le mani e i piedi intanto uno si può guardare le sedici combinazioni di cassa e sviluppare bene quelle e unitamente scusa gli spostamenti di cassa poi magari iniziare a studiare le ghost note e i vari spostamenti di charleston nel groove e quindi via via andare così le poliritmie beh intanto bisogna sapere che cosa sono saperle definire e definire quelle fondamentali e io direi che quelle fondamentali sono il 3 nel 4 e il 4 nel 3 come sono un 4 nel 3 come sono un 3 nel 4 in quanti cicli la concludo questo ciclo poliritmico bene rispondiamo a queste domande e dopo applichiamo lo stesso concetto per esempio solo la cassa ho già fatto un video in merito comunque per esempio metti il 3 sul 4 in una battuta prendi una battuta metti il 3 sul 4 sulla cassa poi metti il 3 sul 4 nelle ghost note poi metti il 3 sul 4 sul charleston e senti come suona vedrai che nella maggior parte dei brani la poliritmia più usata è il 3 su 4 quindi se te già inizi a fare per esempio e inizi a fare tutta questa serie di giochetti che comprendono anche la poliritmia del 3 sul 4 sarai avvantaggiato per l'apprendimento però bisogna sempre procedere per obiettivi non è che devi imparare tutte le poliritmie tutte le indipendenze del mondo perché per esempio ti racconto questo aneddoto io per fare l'esame di scuadria capitani sul quale sono diplomato mi preparai una marcetta era in quattro quarti c'era un po' tutti i rudimenti dentro e accompagnai il tutto con un bello ostinato in 5 cioè con una poliritmia di 5 sul 4 che faceva tucci 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 io lo sapevo fare adesso è 5 anni che non lo faccio più non lo so più fare quindi tu procedi per obiettivi non è che devi imparare tutte le cose perché è un po' come gli atleti cioè sei preparato per la competizione quindi sarai preparato tu musicista per il brano in particolare poi ovvio devi avere un'infarinatura perché se no ci metti 10 anni a imparare quel brano però imparati quello che devi imparare e procedi per obiettivi perché poliritmie è un universo e quindi meglio imparare cosa almeno impara al 3 su 4 riesci a ritagliare del tempo per scoprire cose nuove web carta se sì qual è il criterio di ricerca vuol dire cose nuove musicali o batteristiche oppure cose nuove nel senso che a caso cioè al di là della musica al di là della batteria rispondono a tutte e due le cose per quanto riguarda la musica informarsi leggendo guardando video ascoltando musica in qualsiasi modo fa sempre benissimo non preoccupatevi di dire cavoli ho un'ora vorrei leggere ma come faccio che potrei suonare e tolgo un'ora lo strumento non vi preoccupate ascoltare musica informarvi è importante tanto quasi quanto suonare lo strumento quindi fatelo tranquillamente e per informarsi per cercare cose nuove il modo che uso io di solito ad esempio quando parlo con qualcuno quando parlo con qualche musicista quando leggo qualcosa in giro che ne so me lo segno se qualcuno mi dice un artista un album da sentire me lo segno sul cellulare quando arrivo a casa me lo ascolto e capisco se mi piace veramente oppure no detto questo poi ovviamente da ad esempio un album ad una canzone che ho sentito perché me l'ha consigliata al mio amico o quello che suona con me di lì poi cercate di spulciare cose vicino a quell'artista ascoltate qualche altro album ascoltate qualche altro suo pezzo poi se vi piace il genere andate a cercarvi altri artisti inerenti a quel genere in questo modo potrete crearvi sempre pian pianino più la cultura di quel genere di quel tipo di musica per quanto riguarda invece tutto il resto che non c'entra con la musica secondo me questo è anche abbastanza importante cercarsi qualcos'altro da fare non focalitatevi solo sulla musica dicendo se non faccio qualcosa inerente alla musica perdo solo del tempo e quindi devo cercare di studiare il più possibile perché se no è un casino cercatevi anche qualcos'altro qualcosa che vi piace che però funzioni un po' tipo da valvola di sfogo cioè che voi ok studiate leggete registrate andate a suonare in giro eccetera eccetera ma poi ogni tanto staccate anche il cervello e che ne so andate a correre andate a fare sport secondo me è importante avere anche qualcos'altro da fare oltre questa cosa qua è veramente fondamentale allora se riesco a ritornarmi del tempo per scoprire delle cose nuove beh pensa che quello che faccio io è costantemente una cosa nuova se porto sul canale il video di un nuovo batterista magari faccio suono dei brani suoi per rendermi conto di che universo è e quindi poi ne descrivo anche un po' la storia questa è una ricerca in realtà youtube per me è una ricerca voi in questo senso mi state solo facendo da testimoni su un processo mio di crescita personale se vogliamo nel senso io faccio comunque ricerca per fare i video e quindi ogni settimana portare un contenuto nuovo con un batterista nuovo che sto studiando e questo genere di contenuti dimmi te se non è ricerca in più faccio lezioni con Alfredo Golino e ho da studiare vari libri per esempio tecniche avanzate per il batterista moderno Jim Chapin e il 4 way coordination altri libri insomma studio i libri che mi dà Alfredo e che vuoi andare da Alfredo in preparato quando vai a lezione quindi certo che studio quando vado lì ma anche fosse che non riesco a studiare per tutto il mese perché faccio una lezione al mese e poi studio tutto nelle ultime due settimane beh in quelle due settimane faccio insomma altre cose che faccio da me beh comunque mi ritaglio del tempo comunque per leggere sempre leggo libri che non sono specificamente di batteria adesso sto leggendo la biografia di Schwarzenegger quindi fai te quindi con questo direi che il video può finire qua io voglio ancora ringraziare tantissimo Bernardo Grillo per questa collaborazione secondo me è stata una figata fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa idea vi è piaciuta perché magari poi ce ne potrebbero essere altre in futuro quindi dateci una mano e dateci un feedback io con questo la finisco qua vi ricordo ancora di iscrivervi al canale anzi di iscrivervi ai canali sia il mio sia quello di Bernardo di seguirci sui social Instagram e Facebook trovate tutto comunque qui sotto in descrizione e basta noi ci vediamo al prossimo video ciao